buonasera buonasera principe vediamo un po la volta scorsa abbiamo fatto un po di abbiamo visto praticamente queste queste parti questo documento lo trovate a retire in progress.com slash swiss doc swiss doc sarebbe carino ogni tanto magari tipo lo pubblico in chat ok quindi chi vuole questo è il documento su cui sto ho raccolto un po di un po di dati va bene abbiamo visto nella scorsa live un mesetto fa forse anche di più che trovate su youtube magari potrei aggiungere era del settembre 25 ok 24 quindi un mesetto e mezzo fa la trovate su youtube e quindi oggi 2021 11 cos'è sta gente che che naviga sul mio sul mio documento sparite e via abbiamo coperto fino alle pensioni abbiamo visto le pensioni ovviamente ragazzi domande benvengano se avete domande oggi sull'argomento di giornata sulla svizzera su come si vive in svizzera come si lavora come si sta benvengano sono... mi sa che devo... facciamo così facciamo che facciamo che mi state un po sulle balle mi metto in viewing così non vi vedo ok allora abbiamo visto la parte sulle pensioni anche se nello scorso video la parte sulle pensioni non era non era... ho dimenticato di tenere lo screen share quindi un po di roba si è persa riassumo brevemente sulle pensioni in svizzera come funzionano c'è un sistema a tre pilastri primo pilastro secondo e terzo pilastro il primo pilastro è la pensione sociale quindi tutti contribuiscono in percentuale al proprio stipendio e tutti riprendono più o meno uguale il secondo pilastro è una pensione lavorativa quindi tutti contribuiscono in base al proprio stipendio e riprendono in percentuale a quanto hanno contribuito il terzo pilastro è volontario tutti contribuiscono fino a un massimale senza matching del datore di lavoro e via e hanno degli sconti fiscali e li riprendono a 65 anni ed è pensionabile questo abbiamo visto sulle pensioni ora ci muoviamo e andiamo avanti la parte sulle assicurazioni ah intanto piccola parentesi Federico dice l'aventro si sente perché è un microfono a condensatore non dinamico non è una questione di qualità ok non so cosa posso farci questo magari mi darei suggerimenti offline allora assicurazioni intanto perché tutto nero? in che senso perché tutto nero? ok mister reset dice punto fondamentale sul secondo pilastro capire per bene quanto mette la tua azienda ho visto la gente mettere ok la parte del secondo pilastro è la parte un po' più importante dell'aspetto pensionistico è quello la pensione lavorativa il primo pilastro lo paga chiunque anche chi non lavora in Svizzera e il secondo pilastro lo paga soltanto chi lavora e in genere è un parte della negoziazione cioè nella nella stesura del contratto tra le parti c'è anche il secondo pilastro pensionistico e quella è una parte negoziabile io ho negoziato fortemente nel lavoro attuale e sono riuscito ad ottenere una contribuzione maggiore da parte dell'azienda e anche uno split migliore nei costi quindi ho avuto una quindi negoziare il secondo pilastro è un aspetto molto importante dell'accettare una proposta lavorativa quando la gente mi dice ma mi hanno offerto 100k a Zurico ce la faccio? beh intanto vediamo anche la parte pensionistica quindi non dimenticatevi di negoziare di negoziare anche l'aspetto pensionistico quando cercate una quando state firmando un contratto con la Svizzera grazie mister reset posso comprare un altro microfono quasi quasi voglio mi metto la cuffia e mi ascolto in live per capire quanto fastidio è molto fastidioso ragazzi datemi un feedback quantitativo su google dicono di abbassare il gain che significa? cioè posso cioè se faccio così non mi sentite più se no sembra il mare non è piacere vabbè poi mi riesco è la prima volta oggi l'ho unboxato posso sempre ragazzi se è brutto posso sempre andare in stereo o posso tornare al vecchio meteor questo è il vecchio meteor da andiamo di rodo così almeno ho un benchmark così andiamo col nuovo microfono poi risolverò risolveremo risolveremo benissimo benissimo rispondo alla domanda sulle pensioni che è interessante principe AM chiede domanda i miei genitori entrambi frontalieri ed entrambi a 5 e 10 anni dalla pensione quindi residenza in Italia e lavoro in Svizzera stanno pagando grazie che esisti grazie chissà quanti mesi so che fai sub grazie tantissimo stanno pagando un terzo pilastro di tipo bancario ma non investito è una cosa sensata oppure hanno soluzioni migliori se sono adicente alla pensione è una cosa abbastanza sensata sarebbe da parlare approfonditamente di cos'è un terzo pilastro cosa vuol dire assicurativo cosa vuol dire bancario cosa vuol dire non investito è un po' è una domanda un po' richiederebbe un po' di spiegazioni per farla comprendere anche da chi non è da chi è appena arrivato diciamo da chi sta assaggiando un po' la Svizzera o non ancora provo a dare una veloce veloce definizione terzo pilastro pensione volontaria a questo punto stiamo ancora in zona pensione terzo pilastro pensione volontaria vediamo un po' vediamo se c'è un grafico c'è qualcosa non mi piace c'è qualcosa che gli spiega eccolo qua terzo pilastro è pensione volontaria soltanto a contribuzione del beneficiario fino a un massimale di 6.800 l'anno in realtà se uno è self-employed può arrivare fino al 20% dello stipendio o fino a 30.000 qualcosa del genere si sostituisce il secondo pilastro e questo può è il terzo pilastro chi ha seguito anche le mie presenze televisive su patti chiari sa che può essere investito associato a un'assicurazione sulla vita oppure messo in un conto risparmio i vantaggi fiscali sono sempre gli stessi fino a 6.800 franchi l'anno può essere interamente dedotto dal reddito quindi si risparmia lo scaglione fiscale associato e in più può essere investito può essere messo su un conto deposito o può essere associato ad un'assicurazione sulla vita quelli associati ad un'assicurazione sulla vita fanno lo stesso cagare quindi sono terzi pilastri abbastanza pessimi non investito quindi in cash può aver senso può aver senso se si è a pochi anni se si è a rischio avversi non c'è una gente che ha mai investito se hanno sono anziani oddio a 55 anni se hanno altri asset se fa parte del loro asset allocation se è sensato tenerli in cash va benissimo comunque hanno i vantaggi fiscali del contribuire a un terzo pilastro se no se uno è più giovane in genere cerca di investirlo e si può investire in tanti modi i più efficienti sono quelli fintech e non quelli bancari ok stella del mattino chiede io so che lascerò l'italia tra 5-7 anni e ho iniziato a prepararmi mi domandavo se il filo di arianna si potesse applicare anche ai paesi ma la percezione comune di benessere e superficie in fondo la svizzera è svizzera oppure in italia un po' più benestante ma solamente nulla più domanda un po' complicata stella del mattino la svizzera è svizzera essenzialmente la svizzera è svizzera è sicuro bene allora perfetto ripeto sto parlando della svizzera oggi di come funzionano le cose in svizzera ho ripreso dalle pensioni che erano l'ultimo argomento toccato la scorsa live sulla svizzera e ora andiamo avanti parliamo di assicurazioni premessa non mi sono preparato per niente questo è una scaletta che ho preparato la volta scorsa e cercherò di seguirla pedisseguamente ma non ho non ho fatto studi ulteriori purtroppo il tempo per lavorare su queste cose è un po' scarso quindi vado un po' a braccio tanto mi volete bene lo stesso assicurazioni la svizzera è la patria delle assicurazioni quindi in svizzera la gente si assicura tutto io tendenzialmente sono sempre stato abbastanza contro le assicurazioni non mi piacciono le assicurazioni un po' un po' le odio una parte di me le odia ok perché perché le assicurazioni sono giochi a perdere sono giochi sono giochi di per sé per me le assicurazioni sono vanno evitate ogni volta che ci si può permettere di affrontare il worst case cioè un'assicurazione auto dove il rischio massimo se metto sotto una camionata di bambini devo pagare 500 milioni di franchi a quel punto preferisco assicurarmi pagare un piccolo premio ma essere protetto dal worst case scenario perché non lo posso affrontare non ho abbastanza cioè mi manderebbe in rovina quindi come protesi come scudo verso meteoriti che cascano l'assicurazione ha senso ma estensione di garanzia sul laptop che ho pagato 1000 euro ma per due anni posso pagare una marchetta un premio assicurativo e se mi si rompe me lo aggiustano quella è una puttanata posso affrontare il caso che mi si rompe il laptop perché partiamo dall'assunto che le assicurazioni sono giochi a somma negativa cioè gli assicuratori non sono benefattori e loro nella massa guadagnano quindi ciascun partecipante ciascuno che contrae un'assicurazione ha un expected value negativo a meno che uno non sa già che è una persona che ne profitterà dall'assicurazione tipo ah fatti un'assicurazione dentale che tanto poi quando vai al dentista ti rimborsano sì non sono benefattori le assicurazioni quindi sicuramente come tu vai a chiedere un preventivo ti fanno un preventivo tale che loro ci guadagnano su di te se no non ti vorrebbero prendere come 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 cliente quindi le assicurazioni sono giochi a somma negativa e di per sé di per sé quando uno può affrontare il caso peggiore quindi quando uno può affrontare il danno massimo delle cose assicurate dal mio punto di vista laddove non è obbligatorio è molto meglio non partecipare alle assicurazioni ho cambiato un po' questa visione quando ho quando ho iniziato a vedere le assicurazioni dal punto di vista simile a stocks versus bonds cioè con le assicurazioni hai zero volatilità assumendo un mondo ideale in cui quando fai un claim ti pagano mentre invece senza assicurazioni hai della volatilità come loss averse species noi preferiamo avere meno volatilità quindi se pago 100 l'anno oppure ho un outcome in cui pago zero ma se mi accade un evento brutto pago 1000 anche se magari in questo secondo scenario quello in cui pago 1000 ogni tanto meno di una volta su 10 o 100 ogni anno mi converrebbe scegliere quello in cui pago 1000 ogni tanto quindi no assicurazioni in realtà lo scenario in cui pago 100 ogni anno ha minor volatilità e a noi ci piace di più come esseri umani quindi in teoria il sistema assicurativo si basa su un equilibrio tra leggi dei grandi numeri quindi per chi assicura assicurare un milione di persone si possono fare analisi statistiche si sa già quanto quasi con certezza si va a guadagnare ma per l'individuo c'è una sorta di minor volatilità anche se con expected outcome peggiore quindi in questo caso le assicurazioni possono quasi essere un win-win quindi sto un po' cambiando approccio mentale nonostante questo io le evito come una merda perché comunque non è un gioco tra alla pari quindi nel mondo ideale in cui ad ogni claim corrisponde un rimborso e io partecipo a giochi a somma leggermente negativa mi piacerebbe però poi so che in realtà non è così so che poi ogni claim è fastidioso è faticoso devi combattere non è detto che vinci non è quindi un gioco a somma leggermente negativa è un gioco a somma molto negativa ok assicurazioni quindi esistono alcune obbligatorie alcune non obbligatorie alcune molto fortemente raccomandate suggerite e così via prima di questo rispondo a Federico che mi ha chiesto ma se investo pensione devo farla gestire a terzo o posso farmi la mia macchina a TF in autonomia no devi essenzialmente passare per terzi la pensione non puoi gestirla tu in privato come come non so in Italia sono quei fondi come si chiamano gli ISP IPP IS IS non ricordo però no devi comunque essere in un fondo pensione alcuni di questi ti danno massima libertà di scegliere tra N prodotti e di farti anche l'asset allocation come vuoi ad esempio Finpension che io adoro come terzo pilastro puoi editare puoi editare i pip i pip sì con Finpension puoi veramente editare la dove sta la tua asset allocation vediamo se vediamo se riesco a farvelo vedere così questo è il mio terzo pilastro uno dei due ho due terzi pilastri cofin pension e uno c'è la mia moglie questo qui ad esempio è è il mio terzo pilastro pensionistico e e questo è l'asset allocation ok io potrei allocazione 99% stocks yay e questo qui è l'asset allocation con al momento questi sette fondi che sono stocks svizzere stocks mondo stocks mondo emerging markets small caps troppa svizzera c'è effettivamente ex svizzera escludo svizzera e la strategy dove sta strategy posso posso change strategy bla 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 e posso dove stai ah 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 customized vai così customized posso dove sta dove sta tiè aggiungi posso scegliere cosa aggiungi faccio salvo e quanta percentuale ci voglio mettere 70% in questo tutti quanti etf con ter 0 0 0 0 tutti i ter molto bassi questo perché 0 0 9 ehi però hanno dei hanno dei fondi hanno dei accordi con credit swiss che gestisce i fondi sottostanti che sono fondi passivi e hanno dei ter drammaticamente bassi 0.03 0.0 0.00 questi qua il 30% è equity swiss and large cap 0 di ter 0 di ter 0 di ter 0 09 emerging markets vabbè 0.09 quindi posso gestire la mia strategia come voglio posso ho visto già che se la customizza per ridurre l'esposizione svizzera fare più poi veramente fare essenzialmente questo è un 401k americano molto molto figo sì questa live la ricarico ovviamente sul sul canale ho 40.000 tab adesso aperti farmi agganciare questo sto impazzendo dove sta dove sta la finestra eccola qui se serve vi farò vedere un po' di cose ok benissimo andiamo avanti Federico Bidone chiede a sto punto metti tutto qui a che serve interactive brokers beh comunque finpension si prende uno 0.4 lui 0.4 che in effetti ci sta pure visto che gli etf 0.42 si prende finpension oltre ai ter sottostanti che sono praticamente 0 mi sembra che il mio ter medio è 0.02 nel terzo pilastro posso mettere fino a 6.800 l'anno che ottengo sconti fiscali volendo posso anche metterci 100.000 ma è stupido perché perdo gli sconti fiscali perdo la possibilità di grazie Marco perdo la possibilità di fare dei soldi quello che voglio perché una volta entrati nel terzo pilastro li rimangono fino a 65 anni o finché non vado via alla Svizzera o finché non compro una casa e in più al momento in cui li ritiro ci pago una tassa sopra sono pre-tax questi qua quindi al momento in cui ritiro questi soldi ci pago una tassa una liquota un po' diversa la capital capital aus Zalung Stoyern c'è un calcolatore c'è un bellissimo c'è un bellissimo calcolatore sul blog di Finpension però bravi e belli Finpension conosco personalmente il CEO di Finpension Bit Bullman ho fatto anche qualche call e vorrei anche farci un interview perché sono veramente fighissimi e ci sta ad esempio la capital aus Zalung Stoyer dove sta per cantone massima però parliamo di aliquote attorno al 5 6 7 quindi se metto se metto soldi se metto soldi qua dentro mi risparmio l'aliquota fiscale attuale quindi se metto soldi on top of my salary mi risparmio l'aliquota marginale però poi quando li riprendo ci pago questa aliquota separata che è tipo un terzo un quarto dell'aliquota media che pago normalmente per cui se li metto senza lo sconto fiscale sto soltanto poi pagando questa aliquota quando li vado a riprendere quindi non è molto intelligente però in realtà in realtà volevo quasi scrivere un post perché secondo me in certe circostanze comincia a diventare quasi vantaggioso perché i soldi nel terzo pilastro non sono soggetti a tassa sui dividendi a tassazione sul patrimonio e quindi potrebbe quasi forse essere efficiente e metterci in più del massimale possibile andiamo avanti assicurazioni assicurazioni quindi quali sono le assicurazioni obbligatorie in in Svizzera essenzialmente essenzialmente se non si ha se non si possiede una macchina l'unica assicurazione obbligatoria famici pensare se è l'unica diciamo che il primo pilastro si chiamano assicurazioni sociali anche quella lì è obbligatoria ma l'unica assicurazione obbligatoria è la assicurazione sanitaria quindi qui la sanità come funziona come funziona la sanità in Svizzera come funziona la sanità in Svizzera così funziona siamo obbligati ad avere un'assicurazione la sanità è un mix pubblico privato ma tutti devono avere un'assicurazione se sei povero e non puoi avere un'assicurazione la confederazione e il cantone gli danno dei contributi quindi ti aiutano quindi non è come l'America in America tu puoi anche non avere un'assicurazione e al massimo muori qui sei costretto ad avercela quando entri in Svizzera da espatriato hai tempo tre mesi per fare l'assicurazione o altrimenti te la attribuiscono loro ok te la te la attribuiscono il cantone dice ah se non ci comunichi entro tre mesi ecco beccati suica beccati in genere elsana ti attribuiscono le più costose e poi devi pagare poi sei costretto a pagare l'unico puoi ottenere il non doverti fare un'assicurazione solo se dimostri di aver già un'assicurazione migliore di quelle svizzere quindi se tu sei un cittadino italiano con un'assicurazione privata che copre anche all'estero di qualità che la Svizzera reputa ok allora puoi andare avanti senza assicurazione però è molto raro ho visto pochissime circostanze e quindi in pratica alla fine ti fai sempre l'assicurazione devi farti l'assicurazione che stai qui in Svizzera cosa copre come funziona quanto costa in genere si parla di sanità di assicurazione base e di assicurazioni complementari la base è quella che si chiama vediamo se mi piglio il coraggio di di fare editing dove sta la base si chiama anche la mal e questa qui è standard è standard cioè quello che copre è standard è imposto per legge quindi qualunque assicurazione base che fate ha quantomeno copre quello dall'accordo la mal adesso andiamo a vedere su comparis comparis.ch è uno dei siti più famosi della Svizzera perché serve a fare comparazioni tra tutto tra tutto ti puoi vedere assicurazioni affitti tasse tutto essenzialmente tutti l'abbiamo conosciuta chi è uno in Svizzera conosce con Paris per la comparazione di casse malati ad esempio vediamo quanto costa postcode mettiamo 8000 Zurigo current insurer non ce ne frega niente mamma mia cheapest premium 270 mamma mia che brutta roba quanto è costosa quanto è costosa non me ne frega niente 1977 deductible deductible cosa puoi fare tu con l'assicurazione sanitaria quali 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 variabili adesso Federico bella domanda poi dopo rispondo intanto ti spiego come funziona la situazione sanitaria che è molto molto interessante l'assicurazione base la la mal ha delle varianti una variante è la parte di deductible vuol dire quanta franchigia vuoi avere qual è la parte che tu vuoi pagare prima di arrivare al punto in cui poi pagare l'assicurazione e questa franchigia può andare da 300 a 2.500 franchigia più bassa significa premio assicurativo più alto franchigia più alta premio assicurativo più basso in genere le persone giovani e sane fanno franchigia più alta possibile 2005 così il premio assicurativo resta basso se scendi sotto i 300 il premio assicurativo comincia a diventare più alto credo di aver fatto io un grafico da qualche parte che mostra il break even il break even sulle franchigie vediamo se trovo dovrei cercare le mie immagini non so se se trovo qualcosa l'avevo fatto da qualche parte il break even delle franchigie deductible vediamo un po' no no vediamo un po' deductible e basta forse vediamo un po' qui perché così preferisco se trovo il documento del break even il grafico non è qui mai mai non prepararsi le cose vediamo un po' se l'ultimo tentativo forse è qui quando ho alzato la franchigia a mia moglie vado veloce arrivo 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 se non lo trovo chi se ne frega niente niente eccolo qua ho trovato 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 il grafico il grafico importantissimo come funziona come funziona la franchigia e i costi qui abbiamo sull'asse X quanti quanto spendi cioè quanti costi medici hai ok e sull'asse Y quanto paghi tu la linea rossa è la franchigia la franchigia 2005 la linea blu la franchigia 300 le altre franchigie starebbero più o meno in mezzo fino a punti di break even e poi finirebbero asintoticamente qui in mezzo quindi ho preso le due estreme con franchigia alta 2005 tu per i primi 2500 franchi di spese mediche paghi tu quindi se spendi 2005 in un anno hai pagato 2005 più in realtà stiamo quasi a 6.000 perché hai anche pagato il premio assicurativo assumendo un premio assicurativo attuale mio di quasi 280 franchi al mese per 12 quanto fa 2008 3.000 e 3.300 quindi io pago 3.300 3.000 li pago li butto premi assicurativi 3.300 franchi l'anno ciao più i primi 2500 franchi di spese mediche li pago io quindi se arrivo a 2.000 se spendo 2.500 in un anno ho speso quasi 6.000 in tutto e non ho avuto zero supporto dall'assicurazione raggiunta la franchigia si va in co-pay per i successivi 7.500 franchi paghi soltanto no per i successivi 7.000 franchi paghi il 10% tu e il 90% l'assicurazione dopo di questo qui paga tutto l'assicurazione quindi in teoria se ci fosse la retta a 45 gradi quindi che spunta da qui un break even con la franchigia più alta ce l'avrei attorno a 6.000 a 6.000 franchi di spese 6.500 chiaro con la franchigia più bassa invece pago dei premi molto più alti premi assicurativi quindi magari costa 400 al mese circa e quindi 4.800 l'anno mia moglie ha la franchigia più bassa perché ha molte spese mediche e quindi abbiamo scelto un piano con una franchigia più bassa e quindi praticamente la spesa medica è abbastanza costante come vedete perché subito raggiungi la franchigia a 300 franchi dopodiché 10% per i successivi 7.000 e poi 0 paga tutto quanto l'assicurazione però paghi 4.800 di diciamo di premio assicurativo quindi che vuol dire quale franchigia mi conviene scegliere ipotizzando solo queste due in realtà anche le altre possono aver senso però ipotizzando solo queste due il break even qui è circa 2.000 franchi di spesa se spendo meno di 2.000 franchi l'anno se sono una persona sana che spende meno di 2.000 franchi l'anno quindi tre visite all'ospedale se non ti fai mai niente conviene la linea rossa se spendi più di 2.000 franchi l'anno conviene la linea blu ma asintoticamente il risparmio è di circa 1.500 neanche 1.000 franchi in meno se spendi più di 2.000 ti conviene la franchiccia più bassa ok 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 però non è tutto quanto qui non tutte le spese sono coperte da assicurazione cioè tu ti fai l'assicurazione sanitaria base poi vediamo le complementari e poi fai la tua vita vai dal dottore compri medicine mandi le fatture all'assicurazione che ti dice ok questa la prendiamo in carico la tua franchigia era 2.500 meno 300 di questa visita medica ti restano 2.200 di franchigia quando arrivi a 0 ti cominci a rimborsare il percentuale e poi dopo tutto quanto abbastanza ovvio il problema è che poi esistono vari modelli vari modelli cioè il modello vai dal dottore che vuoi quindi il modello normale modello base sono modelli che danno degli sconti c'è il modello medico di famiglia che vuol dire tu scegli un medico di famiglia e devi sempre prima andare dal medico di famiglia e poi dopo lui ti manda da qualcun altro un po' all'italiana quindi in teoria ti fanno uno sconto le assicurazioni però tu ogni volta paghi sia il medico di famiglia che poi lo specialista quando serve lo specialista io l'ho avuta forse per un anno la medico di famiglia però ho avuto difficoltà a trovare un medico di famiglia li chiami e tu ti dici no siamo pieni non c'è spazio e che palle avevo un medico di famiglia che era in un lontano e non l'ho mai usato avevo soltanto fatto l'assicurazione del medico di famiglia per risparmiare soldi sul premio assicurativo mensile però molti la usano a me non piace ora in teoria il modello assicurativo più economico è quello telemed telemedicina che vuol dire che devi prima chiamare e poi ti dicono loro se puoi andare dal dottore o che altro fare e questo ha i sconti molto significativi vediamo un po' deductible abbiamo detto prendiamo la 2005 e poi mettiamo solo una persona e poi no rompe coglioni modello standard family doctor telemedicina o questo è anche in realtà questo è ancora più figo HMO esistete qualche anno che sarebbe una sorta di estensione del modello medico di famiglia ma che tu hai un centro convenzionato con la tua assicurazione in cui vai sempre lì vai solo lì vai sempre lì e fatti sconto fino al 25% figo full view e e vai vediamo un po' questo qui devo selezionarlo per forza posso mettere nessuno? no nessuno devo selezionare per forza? ma dai non ce l'ho sono nuovo sono nuovo relocate into switzerland vai vai results la più economica storicamente assura infatti oh cos'è ah no questa è pubblicità assura la più economica in svizzera da tanti anni io inizialmente ho avuto assura per tantissimi anni fino a due tre anni fa perché la più economica però ha un livello di di interazione con loro che è molto più fastidioso poi sono gli unici che non fanno mai mai un pagamento in anticipo cioè loro non anticipano mai devi sempre tu pagare tutto e poi mandargli ogni singolo scontrino mentre invece le altre in genere vai da un dottore e paga il bill l'assicurazione e poi ti viene a te chiedere i soldi che è più comodo quindi dopo anni con assura sono passato a mutuel ora sto con gruppo mutuel che è la tra le più povere tra le più povere simpani è sempre mutuel se non sbaglio questo qui è il gruppo mutuel è una variante quindi assura e mutuel sono le più tra le più economiche ne esistono infinite ne esistono infinite sana sanitas vai altri eventi avenir css html helsana ne esistono infinite e vari modelli qui potete anche vedere che c'è ad esempio la più economica è assura con questo quali med non so neanche che modello è questo flex help 24 io ho sanatel questo qua ho mutuel mutuel con modello telemedicina mi sento di consigliarla ovviamente noi siamo in 5 adesso quindi in 5 persone io pago circa questa cifra qua più o meno questa cifra qua al mese un po' di meno perché dopo un po' di anni ho uno sconto fedeltà mia moglie paga circa 400 al mese perché ha franchigia minima e le bambine la grande paga 120 130 forse al mese le piccole dovrebbero pagare 100 stiamo sopra i 1000 franchi al mese 1000 franchi al mese di assicurazione sanitaria 1000 franchi al mese di assicurazione sanitaria l'assicurazione sanitaria di cui parliamo copre soltanto la malattia in Svizzera c'è differenza enorme tra malattia e infortunio sono due cose completamente diverse ma anche la definizione è molto sottile sono cose che non sono né malattia né infortunio è un confine è un confine un po' un po' un po' sottile l'infortunio in genere se lavori te lo deve garantire il datore di lavoro deve farti un'assicurazione infortunio se no devi fartela per conto tuo in genere l'assicurazione infortunio agganciata all'assicurazione di base sono poche decine di franchi in più al mese e a breve dovrò attivare anche infortunio metto anche con infortunio with vediamo cosa cambia da 270 a 280 ma arriveremo a 300 con infortunio refresh 290 300 sono 20 30 franchi al mese per l'assicurazione infortunio ok Matthew Pike no ho fatto quasi un mese fa sono nate due gemelline quindi siamo una barca di persone quindi ecco siamo così con infortuni ma se lavorate infortuni non dovete assicurarmi vi assicuro il datore di lavoro senza infortuni franchigia 200 mettiamo mia moglie con infortunio franchigia bassa stiamo sui 420 400 vediamo un po' in realtà paghiamo di meno abbiamo sconto ma stiamo su queste cifre qua quindi noi come famiglia stiamo sui 1.050 1.100 al mese quant'è l'impatto come chiedeva Federico quant'è l'impatto sul surreddito qui pago 1.000 questo è abbastanza indipendente dal reddito quindi sto qui noi in 5 persone paghiamo 1.000 devo ancora vedere un bill con anche le bambine dentro ma dai preventivi sono 110 a bambina quindi da 800 1.050 fai sul reddito il mio reddito è alto l'impatto non è altissimo sul reddito medio svizzero diciamo zurichese da 5.000 6.000 proprio la singola persona se ipotizziamo un reddito da 6.000 netto al mese non è proprio medio meglio forse è un po' medio alto sono 270 270 franchi poi dipende anche dal cantone se cambiamo cantone mettiamo senza mettiamo 2.500 e cambiamo cambiare cantone secondo me bisogna fare un po' vediamo un po' insurance model display dobbiamo ricominciare da capo non me lo fa se vogliamo cambiare età della persona e non me lo fa non da qui dobbiamo ricominciare da capo cantone per cantone hai diversi costi forse anche municipalità per municipalità sì Ticino so che è molto più economico a questo punto dai facciamolo se io metto Lugano 6.900 finché ormai le conosco i cap a memoria ragazzi mettiamo del 77 fatemi venire voglia di trasferirmi in Ticino eh mica tanto dove sta sta non mi sembra più economico anzi anzi non mi sembra più economico senza infortuni 2.500 mi sembra peggiore mi sembra molto peggiore a Lugano 6.900 paradiso dov'è paradiso è il posto dove vanno tutti quanti full view e niente Lugano ha un par de balle però sono più simpatici può darsi però l'assicurazione non costa di meno però ecco l'assicurazione è così chi non ce la fa pagarla ripeto se non ce la fa pagarla fai aiuti c'è un social department che aiuta le persone vari aspetti non soltanto l'aspetto non soltanto l'aspetto sanitario ma anche aiuti alla scuola allo studio una sorta in base all'ise in base all'ise associata simile hai degli aiuti ovviamente se sei uno straniero e chiedi aiuti sociali quando vai a fare il rinnovo del permesso di soggiorno se chiedi un permesso C o credo anche la cittadinanza ti chiedono l'estratto degli aiuti sociali di cui hai avuto bisogno quindi può darsi che se sei poverino e sei non svizzero chiedere troppi aiuti lo puoi pagare in termini di rinnovo di permesso di soggiorno o cittadinanza ok come funziona con i cantoni devi assicurarti in base a dove sei residente oppure puoi assicurarti a Lugano nei nei vari checkbox che hai con le assicurazioni tu puoi puoi indicare alcune alcune varianti che sono vuoi soltanto essere curato negli ospedali del cantone o nella nazione o anche abroad e anche lì paghi in base a delle piccole micro assicurazioni ok quindi in genere in genere di default se non fai null'altro l'assicurazione copre coperture sanitarie nel tuo cantone e emergenze in tutta la Svizzera però con pochi soldi hai anche una copertura all'estero non so bene come funziona con l'estero di default questo qui non lo so ammetto che ho qualche carenza questa è l'assicurazione base in realtà base la mal accident incidente in genere come ho detto te la paga il datore di lavoro di solito te la paga il datore di lavoro se hai un lavoro se no devi farla integrata con la situazione malattia è obbligatoria obbligatoria le complementari è tutto un mondo di multilevel marketing in cui i stessi broker che ti vendono le life insurance terzi pilastri ti provano a piazzare le complementari le complementari sono assicurazione dentale assicurazione per la vista assicurazione hanno mille complementari spesso sono un po' contratti capestro in cui entri devi stare almeno cinque anni noi ne abbiamo fatto solo una complementare in vita nostra che è per la nostra figlia grande in google girava leggenda che era era molto meglio ora ti rispondo federico in google internamente nel gruppo di parenting la leggenda voleva che l'ottimo è fare un'assicurazione semi private per tua figlia prima che nasca di modo che se nasce con complicazioni hai accesso a cure mediche migliori in realtà era una mezza cazzata l'ho scoperto poi nel tempo e quella era una mezza cazzata alcune forme di complementari sono semi private e private questa è una roba molto svizzera un'assicurazione private quindi pagare un'assicurazione complementare che non costa tantissimo ma ti dà diritto a private care vuol dire che se vai in ospedale puoi avere la camera singola e puoi avere il menu o la carta e forse anche il pigiama di Armani puttanate galattiche e non solo in genere ti è garantito che ti viene a vedere un Oberarts quindi un medico senior non un apprendista non uno uno studente ogni volta ti gestisce un medico senior con la semi private se non sbaglio hai qualche benefit in termini di ospedalizzazione quindi forse non hai il menu o la carta non hai la camera singola ma puoi scegliere una rosa di medici quindi puoi selezionare il tuo medico e questo sembrava essere il benefit principale per cui assicurare un bambino prima che nasca con semi private che noi abbiamo fatto per nostra figlia più grande ti fa sì che tu possa scegliere il medico qualora la figlia nasca con dei problemi però il problema qual è? che stiamo pagando 19 franchi al mese che non sono tanti ma fino a 5 anni quindi nostra figlia grande ha cure semi private che non ha mai usato e stiamo pagando 20 franchi 20 franchi al mese per un anno fanno 240 per 5 anni 1200 franchi per questo per questo privilegio pagheremo 1200 franchi nell'arco dei primi 5 anni e devo anche ricordarmi di cancellarla quando ho chiesto ho fatto eh questa si cancella dopo 5 anni ho fatto vabbè se passa di 3 anni mi cancello no dopo 5 anni sì ma che vuol dire dopo 5 anni se aspetto 5 anni un giorno me l'ha rinnovata automaticamente voglio cancellarla già oggi con decore non si può fare quindi avrò forse la finestra di 3 giorni per cancellare questa sono un po' di merle le complementari fanno un po' cagare c'è chi dice no quella per la vista o quella dentale ha senso se sai che è uguale non sono benefattori e comunque nel mondo dei broker assicurativi cercano sempre di piazzare assicurazioni complementari il che significa che sicuramente ne hanno vantaggi loro e così via quindi è sconsiglio Federico chiede se Google aveva programmi assicurativi per i dipendenti Google non dico un po' se ne lavava le mani ma ti rimborsava dei soldi ti diceva almeno fino a 2 anni fa era ti dava 375 franchi lordi in busta paga come flat per assicurazione sanitaria poi se tu spendevi di meno di più io sarei precioso di meno per cui ho fatto la cresta su quei 35 in più 300 per il tuo partner e 150 per ogni figlio quindi in Google avrei preso lordi in busta paga 375 più 300 675 più 4,50 a 1.200 più o meno ci coprivo i costi di assicurazione questo qui per la parte malattia la parte infortunio aveva l'assicurazione super turbo Google che copriva anche in vacanza anche per non per cazzate estreme e grande dolo per sport estremi qui c'è anche un'assicurazione per sport estremi vuoi fare bungee jumping o paragliding non basta l'assicurazione infortunio devi avere l'assicurazione infortunio per sport estremi è un casino ragazzi così quindi l'assicurazione incidenti di Google e malattia di Google erano oltre a quello che vi ho detto è ricoperto in viaggio tu e tutte le persone che viaggiavano con te 23 su 24 fantastico era una bella assicurazione incidenti malattia ti davano dei soldi e te le facevi come volevi tu Signeno dice mi sono trasferito a Zurigo da poco per studiare all'ETH ho recentemente ricevuto il canone radio televisivo sapresti dirmi di più su questo non so se te la puoi l'ho messo da qualche parte il discorso vediamo un po' costo della vita lo buttiamo qua vediamo se ci arriviamo Serafe per i più vecchi Billag il male assoluto allora ho scoperto tipo Andemis ho scoperto tre giorni fa che è riuscito allo scoperto spesso tre giorni come tutti i video grazie Andy Andemis ok quindi l'assicurazione sanità l'abbiamo un po' vista responsabilità civile questa anche l'ho fatta solo da settembre di quest'anno dopo quasi nove anni dopo nove anni che sto in Svizzera da novembre sono nove anni tutti mi hanno detto adesso è un pazzo la responsabilità civile non auto responsabilità civile privat privat ecco questa parola qua questa parolaccia privat apt flict versiker versikerung questa qui è l'assicurazione su responsabilità civile classico esempio vai in bicicletta e metti sotto il CEO di Credit Suisse e gli fai un danno economico e ti chiede soldi tua figlia gira e con la un bastone riga la Ferrari del tuo vicino di casa e ti fa causa per responsabilità civile tutti dicono sei folla a non averce l'avuta forse hanno ragione perché in effetti costa pochissimo e ti protegge da questi casi che però vorrei vedere poi a fare un claim se mia figlia riga la Ferrari voglio vedere a fare un claim e così via quindi privat apt flict versikerung è una assicurazione di responsabilità civile consigliata io mi sa che l'ho fatta con Ikea se non sbaglio Ikea insurance Hemsacker penso che sia solo in Svizzera esista sta roba qua e ti fanno assicurazione assicurazione privata e assicurazione beni di casa molto spesso quando vai in affitto qui ti chiedono a me non è mai successo in due due affitti che ho avuto ti chiedono di assicurare i beni i beni loro da un incendio da un flooding da altri danni quindi se tu fai danni alla alla mobilia vogliono che tu abbia un'assicurazione a me non l'hanno mai chiesta fino adesso però figo Ikea fa l'assicurazione se sei single se sei una coppia con un cane se sei una famiglia di quattro persone con quattro stanze e mezzo e le le associa vediamo un po' quante stanze hai quattro e mezzo quanta gente due adulte e mamma mia tre bambini come è fornita la tua casa small but mine I like my dream sono un poveraccio sono un poveraccio sei un renter sono un renter main residence postcode 8000 a Zurigo vediamo un po' dati nascita 010177 non è una data di nascita ovviamente non di aprile attenzione attenzione loading loading Ikea eccola qua allora hai un po' di io pago qui puoi scegliere il montante estremo 5000 cambia di poco posso aggiungere posso levare 165 franchi ma chi ti conosce levali levali e sarebbe simple theft away from home quindi se mentre stai fuori casa ti fanno un furto non so ti rubano la borsetta ma dai non voglio assicurarmi queste puttanate puoi aggiungere con 70 franchi se entra un ladro in casa no puoi aggiungere glass breakage furniture quindi se rompi cose di vetro devi pagare a parte oppure se vuoi dove sta dove sta questa qui è household di casa quindi se vuoi assicurare i beni di casa ok e sotto c'è se vuoi e questa qui è la personal liability quindi è quella di cui parliamo prima la private apt fleek per versicherung e puoi scegliere se fare o no io in genere sei costretto con ikea a fare anche household io penso di aver fatto una roba del genere forse di meno forse devo dire che è che ho due bambine in più nella personal liability ho scelto sicuramente se vuoi guidare veicoli di altri forse gross negligence l'ho messa tipo se fai una puttanata galattica ti sei dimenticato il fuoco acceso se no se non lo metti e si dimostra gross negligence manco te pagano poi pet owner se non me ne frega niente non la voglio ha inclusa non ci posso fare niente bla 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 coverage altissima 10 milioni tanto cambia poco perché ti vuoi proteggere da danni mostruosi se veramente tua figlia uccide il CEO di Credit Suisse e via cifre del genere per un anno questo è un anno un anno e Ikea è anche tra le più buone e poi se non fai nessun claim ti da 20 franchi di di buono se non fai nessun claim e Ikea è simpatica quindi questa è assicurazione io l'ho fatta con Ikea non sono non c'è alcuna affiliation se no ci sono si può fare fare un quote anche i vari generali AXA i più famosi insurer lo fanno questa è straconsigliata io sono sopravvissuto senza averla fatta per anni il stesso comparis ci sta la comparazione vediamo un po' su comparis sicuramente c'è assicurazioni tiè vai così c'è legal protection pet insurance dove sta dove sta è contents and personal liability questa qui è la privata abitferzi bla 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 si può anche mettere in tedesco e trovate la mitica privata abitferzi che lunga mettiamo in italiano e triste mettiamo in inglese ok content personal liability con Ikea la parte personal liability veniva tipo meno di 100 franchi l'anno personal liability compara vai ah devo mettere in fase personal liability vabbè così nationality che c'entra nazionale che vuol dire se sei italiano mi fa pagare di più perché facciamo più danni permesso di residenza C data di nascita 010177 vivi con i genitori ok ma per favore adulti 2 bambini tanti sono un tenant location mettiamo 8000 Zurigo current insurer no nessuno additional questions bla 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 you made a claim no bla 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 optional discounts non voglio perfetto results quanto mi costi quanto mi costa la più economica vediamo un po' bah mi sa che mi siete dimenticati Ikea dov'è Ikea non c'è Ikea non tutti stanno sul compare Ikea è la migliore guardate vedi qui trovate le standard trovate con 5 milioni di deductible driving other cars questa è yes questa se la levo se la cambio scommetto che se metto no torniamo sotto i 100 franchi quindi mai guidare macchina degli amici in Svizzera perché se non siete assicurati ho messo no ah ecco ok ok figo ammazza 30 franchi è solo per guidare la macchina degli altri ok allora e das Hertz dice è da assemblare l'assicurazione inoltre ha fatto il contratto si 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 te la montano te la portano spezzettata devi fare un pezzo d'assicurazione i ladri in casa esistono in Svizzera si esistono ricordo che in Google due persone in sette anni e mezzo hanno lamentato un furto in casa uno dei due il grande non faccio nomi ma un personaggio abbastanza famoso in Google aveva poi ammesso di aver fatto grandissime puttanate come lasciare finestre aperte aver messo in mostra oggetti di valore esistono non è un posto perfetto esistono esistono non noi idealizziamo siamo ordini di grandezza sotto quello che c'è in Italia però esistono anche qui ok però veramente io non dico Signale dice in biblioteca quando si va a mangiare ti lascia tutto il computer lì qui ti posso fare delle chiaramente io lascio casa aperta io lascio casa mia aperta spesso ti sembra il posto quello in cui qui tutti lasciavano casa aperta la mia cantina è aperta senza manco il lucchetto cioè altri livelli allora questa è casa l'abbiamo vista assieme legale esiste un'altra insurance legale anche questa qui io metterei boh perché non non lo so però i vari amici mi dicono che potrebbe aver senso chiamo Mr. Reset se è ancora in chat a dirmi se ha senso esiste una assicurazione legale che ti copre alcuni costi di consulenza legale in caso di dispute e potrebbe aver senso fare se fai professioni che richiedono che richiedono molto interazione con dei legali assicurazione macchina non ho idea mi dicono che sono più economiche assicurazione e disoccupazione qui entriamo nel mondo nel mondo assicurazioni sociali obbligatorie da pagare da pagare nel caso di si pagano sul salario ho parlato di unemployment fino adesso no quindi parliamo un po' di unemployment come funziona come funziona la disoccupazione in Svizzera ho degli avvocati che corrispondono un fisso mensile esatto Zauer 23 ci comunica e paga 500 franchi credo all'anno so che sono un po' più economiche e anche lì dipendono dal cantone dall'età del conducente e così via io non lo so non ho una macchina quindi non ho mai dovuto fare un'assicurazione prima o poi ce l'avrò e via 15 franchi l'anno irrilevante rispetto ai stipendi sono 5 volte tanto l'assicurazione metà dell'Italia è proprio irrilevante veramente costa come andare una sera a cena fuori disoccupazione come funziona la disoccupazione beh vedi ci abbiamo dei dati un po' discordanti AL dice 1050 immagino sia Svizzera con casco totale molto alla Svizzera e Fed QAD 2300 oggettivamente magari sono macchine diverse come funziona la disoccupazione in Svizzera disoccupazione in Svizzera se tu lavori sei costretto a pagare la unemployment insurance che è circa l'1% del tuo stipendio fino a 150k annui e dopo scende a 0.5 mi pare quindi fai 1% del tuo stipendio in realtà se guadagni molto di più poi a un certo punto paghi di meno qui tu paghi l'1% del tuo stipendio e quello è una tassa è una tassa 1% quando dovessi perdere il lavoro se vieni licenziato e hai lavorato almeno 12 mesi adesso potrei perdermi qualche pezzettino hai lavorato almeno 12 mesi hai diritto ad accedere alla disoccupazione per tanti mesi quanti hai lavorato fino a un massimo di 400 giorni lavorativi che sono circa un anno e 8 mesi quindi se lavori più di 2 anni se perdi il lavoro hai diritto fino a 2 anni di disoccupazione il contributo di disoccupazione è giornaliero in realtà si chiama Tagesgeld il Tagesgeld è calcolato e è in generale il 70% del tuo stipendio anno diviso per il numero di giorni lavorativi in un anno 70% se non hai figli 80% se hai figli non fanno 1, 2, 3 figli se non hai figli prendi il 70% del tuo stipendio se hai figli l'80% del tuo stipendio cappato mi sembra 150k l'anno io ho stato in disoccupazione 5 mesi nel 2020 dopo Google e prendevo il massimo il cap prendevo era circa venivano netti attorno ai 10 11 mila al mese ma ti sei licenziato tu da Google eh sì infatti anche se ti licenzi hai diritto al suo stipendio di disoccupazione cosa accade? se ti licenzi potrebbero darti fino a poi vengo a rispondere alle vostre domande però sto affinando un discorso poi vengo anche da Signe e poi dico se tu ti licenzi comunque compili un compili una brochure compili una richiesta di disoccupazione in cui spieghi le motivazioni e spieghi le motivazioni e porti di documentazione potrebbero anche darti disoccupazione da subito al massimo aspetti 90 giorni cioè 60 giorni lavorativi circa 3 mesi quindi quando tu entri in disoccupazione i soldi cominci a prenderli dopo un tempo X di attesa che va dai 5 giorni ai 60 giorni lavorativi se tu hai motivo per prendere soldi da subito li prendi con solo 5 giorni di multa se no hai 90 giorni massimali 60 giorni scusate massimali di attesa prima di prendere i soldi questa cifra di quanto tempo quanto delay prima di prendere soldi dipende dalla tua application e quindi in base a se sei stato licenziato in genere è il minimo 5 giorni e poi cominci a prendere i soldi se ti sei licenziato può arrivare fino a 3 mesi io licenziato da solo da Google ho preso soldi subito dopo 5 giorni perché ho portato documentazione che ero finito in burnout che la situazione era insostenibile e bla 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 io ho fatto il matto in generale puoi aspettare quindi puoi licenziarti tu chiedere il suo disoccupazione e dopo 3 mesi cominci a prendere soldi però dal momento in cui hai notizia della perdita di lavoro quindi il momento in cui dicono sei licenziato eccoti i due mesi di preavviso oppure mi licenzio ecco i mesi di preavviso da quel momento lì sei tenuto a cominciare a a cercare lavoro che significa nei mesi in cui ancora lavori quindi se io mi licenzio io a settembre mi sono licenziato con decorre fino al 31 dicembre il lavoro quindi in questi tre mesi ottobre novembre dicembre dovrei se volessi iscrivermi alla disoccupazione cosa che non so se farò dovrei portare prove che ho cercato lavoro almeno 5-6 ricerche attive al mese dovrei averle fatte se no ti danno altri giorni di multa dicono ah sì oltre i 60 che devi aspettare eccoti altri 20 giorni di multa quando comincia la fase in cui sei unemployed quindi dal primo giorno di effettiva disoccupazione effettiva perdita di lavoro sia che ricevi soldi sia che non ricevi ancora soldi se vuoi accedere ai servizi della disoccupazione devi cominciare a compilare i loro form mensilmente che sono c'è un form con devi mettere da 10-12 almeno ricerche di lavoro al mese anche ben distribuite nel mese non puoi mandare 10 curriculum il giorno 1 e poi basta quindi fare 10 application almeno 10-12 application al mese in cui devi mettere per chi ha applicato un numero di contatto lo stato dell'applicazione e poi mensilmente in genere fai un colloquio con la tua consulente il tuo consulente e ti possono mandare a fare dei corsi di lingua dei corsi su come si scrive il curriculum hai un supporto continuo ogni cazzata che fai ti fanno giorni di multa ti danno quindi se un mese non hai applicato bene o non hai fatto tutte le application oppure hai fatto dell'assenza a un corso obbligatorio che ti hanno mandato loro a fare giorni di multa 5 giorni di multa 3 giorni di multa 10 giorni di multa quindi prendi meno soldi questo qui va avanti fino a che tu hai giorni residui hai delle ferie dalla disoccupazione mentre sei in disoccupazione non puoi andartene in vacanza devi prendere ferie quindi devi dire prendo 5 giorni di ferie dalla disoccupazione tu accumuli 5 giorni ogni 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 60 ogni 60 giorni di lavoro 3 mesi accumuli una settimana quindi 5 giorni di ferie la disoccupazione sei effettivamente un impiegato dello Stato quindi ti pagano anche assicurazioni e infortuni hai contributi di primo pilastro quindi essenzialmente da disoccupato sei un impiegato statale e non appena trovi lavoro devi disiscriverti e così via questa è come funziona la disoccupazione è un'assicurazione sono due enti che gestiscono questa cosa qui uno è il RAV che sarebbe il regionale Arbeit Loss Versicherung e l'Arbeit Sousen Kassa è quella che paga la cassa disoccupazione è un conto e l'ufficio regionale della disoccupazione è un altro questi sono i controllori quelli che ti fanno le multe questi sono quelli che ti pagano effettivamente il servizio spesso sono associati ai sindacati altre cose questa è la parte diciamo socialista e questi sono i controllori rispondo a qualche domanda che avete sulla disoccupazione dimenticato qualcosa devi dire la disoccupazione 1% dello stipendio accumuli diritto dopo un anno hai il saldo di giorni ogni mese dicono hai consumato 18 giorni di disoccupazione te ne rimangono 335 in genere quindi se non se non trovi lavoro entro un anno e 8 mesi 400 giorni lavorativi 20 mesi un po' di meno di solito finisce finiscono i soldi e poi sono cavoli tuoi allora vediamo un po' di domande che sono arrivate Sigmeno faccio due domande per che istituzione accademica lavori se si può sapere l'ho detto mille volte e dove si possono trovare le info che stai facendo ora che ha risposto nonno Tom SwissDoc no dai bannate quest'uomo che ha chiesto computer science come cazzo ma dai non rompete i coglioni allora Federico dice la disoccupazione de facto è un'assicurazione preferiresti non averla e pagare meno tasse o uno stipendio più alto? bella domanda è una domanda qualitativa che ripeto la domanda Federico Bidone chiede la disoccupazione de facto è un'assicurazione e mi si chiede se se io sono coerente col mio discorso sulle assicurazioni o se mi piace questa assicurazione cioè se preferirei un mondo in cui non pago questo 1% ma non esiste neanche l'assicurazione allora qui ho due parametri da snocciolare uno è questa è un gioco a somma 0 positiva o negativa qui c'è di mano lo stato l'assicurazione è statale e lo stato ci rimette su questo gioco sulla disoccupazione col covid ci rimette quindi è un gioco a somma positiva quindi eccovistemente posso dire no no mi piace questo gioco perché piglio più soldi di quelli che metto infatti io ho fatto così io sono 9 anni che verso contributi in unemployment insurance possiamo anche fare un po' una stima a 200k l'anno 220k l'anno in questi 9 anni 1% sono 2.2k l'anno ho messo circa 20.000k e nei 5 mesi di unemployment ho preso 50.000 quindi io ho sottratto soldi dal sistema quindi a me conviene però è un discorso del cavolo ovviamente ti placo Federico è un discorso del cavolo nel senso che non è che se un ente pubblico dà soldi allora è bello e voglio che rimanga perché so che poi da qualche altra parte i soldi li va a prendere con le tasse ad esempio quindi la domanda è il fatto che sia un gioco a somma positiva per me mi farebbe dire figo figo lo voglio il fatto che sia un gioco in cui sono tanti player che ne traggono beneficio e maleficio c'è da capire al momento la situazione qual è in realtà l'assicurazione su disoccupazione è un bello strumento qui è molto meglio di tutte le altre che ho visto ovunque tipo in Francia è una merda in Francia è una tassa mostruosa non fai niente più di soldi lo soldi paga per respirare in Italia cos'è? cosa fanno in Italia? in Italia boh ci sono i navigator che come funziona? danno dei soldi così a buffo senza chiederti niente in cambio qua è fatto molto bene quantomeno ti reintegra io mi ero recensato da Google con l'obiettivo di non lavorare per un po' e dopo 5 mesi ho iniziato a lavorare quindi anche a me che ero uno scettico per il fatto che dovevo mandare quei 10-12 curriculum al mese mi sono esposto al mercato alla ricerca mi sono fatto convincere da un paio di opportunità ho detto vabbè questa la riprovo quindi in realtà funziona funziona molto bene chiunque conosco ne ha tratto beneficio ora economicamente è un buon modo per spendere i soldi dello Stato o egoisticamente sarei più felice se io non pagassi la mia quota perché io comunque lo stipendio è alto sto pagando una quota molto alta cosa dire a me piace come servizio finora è comunque ben sfruttato e il peace of mind che dà sulla popolazione è molto alto in questo qui sono un po' meno liberale di quello che dico di essere come con la sanità la sanità pubblica è un carrozzone che un liberale non vuole però se vedi l'America e vedi l'Italia ti viene da dire certo però è bello che tutti possano avere un accesso alla sanità la Svizzera come sempre in tutti i servizi riesce ad avere un bel mix pubblico-privato quindi la sanità è semi-pubblica ma c'è un incentivo molto forte economico-personale e la disoccupazione è simile hai un incentivo economico-personale hai dei doveri molto forti e dei controllori veri e quindi è un sistema che sta su e anche se non è il sogno libertarian è un bel sistema la disoccupazione svizzera lo trovo quindi alla fine voto per no preferisco pagare questa tassa ma sapere peace of mind che c'è questo sistema e che è sostenibile questo è un discorso qualitativo poi per farlo quantitativo dovrei entrare nei bilanci dello Stato e dire no cazzo dobbiamo alzarla al 2% perché l'1% è troppo poco non lo so non so bene qual è il bilancio di questa tassa la renderei sostenibile esatto Federico se poi nei prossimi x anni ti alzano le tasse non è a somma positiva quindi il il punto è metterci della quantità di questo discorso qualitativo cioè vorrei vorrei capire vorrei capire se quanto è sostenibile questo sistema oppure no cioè l'1% che paghiamo di unemployment insurance è troppo è troppo poco è giusto sostiene il sistema se no se non lo sostiene e per sostenerlo deve diventare al 2% ne riparliamo a 1% dico che è buono se lo Stato mi dice che ci sta dentro applausi vuol dire che la popolazione è molto responsabile la gente non perde lavoro 1% basta 1% ci stoppano a vita verde a chi stai rispondendo a chi stai rispondendo tassati alla fonte ok qui io tra qualche tempo dovrei andare in internship sempre signeno dovrei andare in internship qua delle info che ho da chi ha già fatto lo stipendio medio è 5k ci sta la tassazione come funziona l'ho detto nella live precedente per fare in genere si è tassato alla fonte ci sono le tabelle che più o meno corrispondono a quello che pagheresti se facessi la dichiarazione di redditi per conto tuo è un po' come l'Italia paghi anticipato e via ok andiamo avanti disoccupa assicurazioni abbiamo più o meno coperte professionali dipende dalle categorie e hanno assicurazioni che non ne so un gran che so che sono perché esistono trasporti come funzionano i trasporti siamo ancora penso di avere ancora un finale 11 posso stare cosa riusciamo a fare un altro po' di cose trasporti macchina macchina in svizzera non ho una macchina per cui menziono un po' di cose quando ti trasferisci in svizzera hai un anno di tempo per convertire la patente e per immatricolare la macchina insieme a una macchina italiana o straniera quindi entro un anno devi avere patente svizzera e macchina con targa svizzera non esiste altro cioè non puoi fare nient'altro ok ci sono leggende questo non lo so se viene un parente con la macchina qui e tu la porti in giro e ti beccano che guidi una macchina targata Italia dopo anni che sei in svizzera con permesso di lavoro potrebbero prendere e sdoganarti la macchina che non è tua lì all'istante e e non è una bella esperienza quindi so che non è mai successo però so che con la macchina è molto 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 seria la cosa la targa deve diventare svizzera e via e la targa se non sbaglio segue la persona quindi tu puoi prendere la stessa targa e portarla su un'altra macchina però non sono sicurissimo purtroppo sono un po' non sono la persona adatta perciò qui parcheggi zone 30 zone 20 autostrade l'autostrada e svizzera hanno un l'autostrada e svizzera sono hanno un meccanismo di non esistono caselli autostradali però le zone autostradali per accedervi di avere un bollino il vignette vignette svizzera il vignette vignetta come si chiama vignetta autostradale è questa cosa qua ogni anno è colorato diversamente costa pochissimo costa tipo 40 franchi quanto costa 40 franchi che che cosa triste 40 franchi tutto un anno di autostrada in svizzera c'è stato un referendum in realtà cominciano a venderlo già a dicembre per l'anno dopo e copre già a dicembre e copre anche tutto gennaio dell'anno successivo quindi copre in realtà fino a 14 mesi se non sbaglio se circolare senza vignetta fino a 200 franchi di multa più l'acquisto della vignetta quindi no buono non esistono giornaliere mensili sono per forza annuale costa 40 franchi c'è un referendum per portarla a 100 franchi per dignità anche meno di 40 franchi se la compie la dende si c'era una roba che la dende dava uno sconto davano è vero è vero e ci fu un referendum per portarla a 100 franchi dicendo ragazzi 40 franchi è ridicolo portiamola a 100 franchi ma venne bocciato venne bocciato referendum vignetta 100 franchi svizzera vignetta referendum c'è gente battaglie politiche portiamo a 100 franchi no niente per l'udc che non è l'unione democratici cristiani non so manco che partito è è un aumento abusivo non si fa il liberale no no da 40 a 100 franchi che siete matti 150% di aumento non si fa quindi si compra il vignette e via passa la paura è pieno di zone 30 e zone 20 nelle città a Zurico ad esempio zone 30 Zurico zone 30 a perdita d'occhio zone 20 talvolta le trovi dove sono bambini sono molti bambini sono zone 20 spesso anche con degli ostacoli per la strada per cui macchina devi fare zig zag e parcheggi parcheggi hanno meccanismi un po' particolari almeno parlo di Zurico apparentemente non esistono parcheggi gratis non ho mai visti a Zurico parcheggi gratis non si può parcheggiare una macchina gratis in città esiste tutto il circuito delle parcheggi blu che sono quelli col disco orario per cui puoi stare un'ora gratis però per parcheggiarci a lungo termine devi pagare una carta giornaliera da 15 franchi oppure mensile o annuale se vuoi avere un parcheggio all'aperto per parcheggiare l'automacchina se non è un garage o un posto autocoperto il parcheggio blu a Zurico per un anno costa 300 franchi blu parking Zurich annual parking in Zurich parking parking gna 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 zurich.com è un sito fantastico è di tutto è un sito fantastico fantastico sito pubblico fantastico è dove trovi anche le escursioni le cose fighe blue zone parking blue zone annual eccolo qua english forum ch altro sito galattico meraviglioso l'ho messo l'ho messo english forum nelle risorse nei siti utili english forum assolutamente sì grazie quanto costa mi sembra sui 300 250 300 vabbè non l'ho trovato comunque se puoi parcheggiare la macchina all'aperto in un parcheggio blu tutto l'anno nel tuo cap non puoi parcheggiarla ovunque ti costa 300 franchi l'anno 300 se no ti compri un garage ti compri un posto auto coperto e via se no esistono parcheggi ovviamente a monetina a pagamento e siamo sui tra i 1 tra i 1 e 50 e i 3 franchi l'ora ok addirittura si può avere una targa sola per due macchine no non ci credo non ci credo addirittura però ecco sulle macchine ne sono sono un po' ignorante vorrei vorrei rispondere a qualche domanda per voi vediamo un po' vignetta annuale 40 franchi un anno per immatricolare la macchina si può trasferire esatto una targa perché si può trasferire la macchina all'altra limiti autostradali veramente Andy Emmie si dice il limite autostradale di norma è 120 all'ora ma spesso trovi 180 se vai verso l'Italia da qui trovi 120 poi a sorpresa 100 e le multe vanno in percentuale a quanto superi il limite i primi 4 step in genere sono multe costanti quindi se superi da 1 a 5 km non so se in percentuale o in km se mai pure in km assoluti se superi da 1 a 5 km e ho visto multe con 1 km sopra il limite la multa è sui 50 franchi da 6 a 10 km saliamo raddoppiamo poi raddoppia poi raddoppia se superi di 15 km il limite se è già sui 500 franchi dopo se superi più di 20 km il limite in genere ti chiedo di compilare un modulo con il tuo reddito e la multa è proporzionale al reddito ah verde hai preso oggi un'altra multa e dai cazzo però fede e dai guarda che qui a qui leggenda è che arrivare a dopo 2 anni che guidi in svizzera senza multe è rego finisci nel guinness dei primati multe all'ordine del giorno e c'è una progressività per quello che so se fai più cazzate paghi più multe la patente svizzera non ha punti vero? non mi pare non credo che tu hai punti sulla patente allora vediamo un po' se la compri a fine anno dura pochissimo il vignette se la compri a dicembre vale già per l'anno prossimo però a dicembre puoi già comprare quella dell'anno successivo quindi se compri a settembre sì però vabbè è un modo per tassare chi la usa una volta soltanto quindi chi molte cose in svizzera hanno questo meccanismo hanno dei costi costanti bassi che se li usi per un anno è fantastico ma se vieni una volta è una tassa sul turismo essenzialmente sì se sei un turista che attraversa la svizzera paghi 40 franchi e vaffanculo però è quello che paghi per fare Milano o Firenze credo per cui sì si possono pagare 40 franchi dai la domenica i parcheggi blu sono gratis e c'è anche chi ci dice sono parcheggi gratis a lungo termine fino a 6 o 23 ore ma è rarissimo a Zurico città ho visto solo un parcheggio economico sotto l'Europa Bruche vicino alla Verdinsel nell'isola dei nudisti Don Franchi chiede domanda off topic ma ti rispondo quali sono i vizi per cui spendi di più board games libri 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 ho appena ho comprato il trittico dei mental models di Farnham Street in realtà il primo me l'ha regalato Mike che non vedo più da un po' Mike Donnarum e gli altri mi sono comprati da solo libri e board games e microfoni microfoni di qualità non ho vizi non fumo non bevo allora Matthew Pike quando continuerà questa live mi interessa molto il discorso impresa eh impresa devo ancora arrivare non lo so oggi finiamo un altro pezzo ci sarà una terza parte che faremo più in là dai verde Federico prese due multe superando di un chilo non ci credo screenshot o never happened veramente un chilometro due multe per un chilometro orario sei veramente da Guinness di primate anche tu quella oggi sopra un chilometro 40 franchi vabbè il chip minimo dai autovelox autovelox ci stanno delle macchine fisse grosse visibili in posizioni più o meno note che però roteano in città a Zurico si sa dove stanno ma poi vengono fatti roteare ma in generale la gente almeno a Zurico in città la gente rispetta la gente lo sai che è così pigli due o tre multe e poi ti plachi vai calmo e rispetti le strisce i semafori non fai cazzate sono dei semafori con la telecamera integrata ce n'è uno famoso vicino a dove abito io in cui chiunque ha preso multe chiunque ha preso multe nel semaforo vicino a dove abito io quindi ok si va anche nel penale si distia fino a 4 anni di carcere per il superamento di oltre 40 km orari in centro abitato e contate che nelle zone 20 andare a 60 in una zona 20 è difficile ma andare a 70 in una zona 30 di notte potrebbe non essere difficile però si va sul penale stai la nazione ti reputa uno che sta mettendo a repentaglio la vita degli altri se vai a 60 all'ora su zone 30 ok Giagani chiede ma è vero che se prendi troppe multe da straniero puoi anche subire il daspo dalla nazione o una cazzata non ne ho idea non ne ho idea se non le paghi so che se non paghi le multe perché tu torni in Italia e non paghi la multa chi se ne frega se per sbaglio quella macchina con quella targa dovesse attraversare ancora un casello svizzero fermati e sequestro una macchina all'istante quindi ti sconsiglio di tornare in Svizzera con una macchina che ha preso una multa che non hai pagato allora sì sull'impresa non ci arriveremo oggi ok ok andiamo avanti Pachidermo ho appena preso una multa a Basilea e mi sono stupito che hanno tolto il margine errore di 5 km orari in genere funziona così in genere c'è andavi a 57 km all'ora lo strumento a margine di 5 km di errore te li abboniamo e quindi 52 se oltre il limite di 2 paghi 40 franchi non si scappa non si scappa torniamo torniamo a trasporti questa è la macchina in genere la filosofia a Zurigo ad esempio è scesa a 3 km il margine eh migliorano gli strumenti a Zurigo la filosofia è che tu la macchina la devi odiare se tu sei a Zurigo la macchina la odi e mi sono reso conto che quando sono nate le nostre figlie il giorno che sono uscito dall'ospedale tre settimane fa circa abbiamo preso un Uber qui è pieno di Uber vediamo un po' se l'ho menzionato menzioniamo Uber e Mobility ok Uber è molto usato e è di fascia bassa ai taxi svizzeri costano una rapina un taxi svizzero non prendetelo mai mai piuttosto fate venire uno da Milano pagate un NCC da Milano che viene a Zurigo che vi fa fare dalla stazione a casa vostra non prendete un taxi in Svizzera costano hanno il tassametro che scattano ogni 10 metri si scatta un franco tu dici cazzo 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 paghi 70 franchi per fare tre puttanate quindi i taxi sono molto costosi i taxi sono costosissimi Uber è piuttosto economico vai a pagare veramente un terzo del taxi un terzo forse no meno meno della metà più di un terzo diciamo un 40% di un taxi con Uber e Uber trovi sempre persone balcani indiani tutti immigrati diciamo un po' sfruttati perché oggettivamente delle volte vedo delle tariffe che sono borderline sfruttamento cioè non è dignitoso comunque quando sono nate le nostre le mie due figlie le mie due gemelle abbiamo preso un Uber per tornare a casa dall'ospedale abbiamo pagato 20 franchi per fare cazzo mezz'ora di strada una roba di 20 franchi di biglietti di mezzi pubblici avrei pagato 13 cioè pagavo quasi quanti mezzi pubblici però mi sono reso conto che infatti il motivo è quello là è che paghi 20 franchi ma stai in macchina cioè è da pazzi ci ho messo un'ora per tornare a casa quando con i mezzi pubblici montavo sul tram e scendevo sotto casa mia col tram quindi quel momento là uno di pochi che ho preso la macchina in città ho detto la macchina è uno strumento per poveri qua a Zorigo cioè il povero gira in città con la macchina perché è proprio è stupido è inefficiente è proprio così bello montare sul tram che però c'è Uber costa poco magari la notte ha senso la sera ha senso o in circostanze in cui proprio non puoi evitare i mezzi pubblici ha senso ma i mezzi pubblici in città alzo le mani penso che è difficile raggiungere Zorigo come bellezza di mezzi pubblici ok ora parliamo di mezzi pubblici intanto protesta dei tassisti credo forse un pochino però qui la Svizzera è un paese liberale cioè non è un paese protezionista verso è solo protezionista con l'agricoltura cioè con i contadini con le mucche svizzere però per il resto arriva un competitor straniero vai vai tranquillo l'unica cosa che hanno fatto un po' di ostruzionismo è per lo status di self-employed quindi tu per essere considerato un self-employed quindi per poter lavorare come autonomo la AAV quindi l'ente che gestisce il primo pilastro e l'assità di disoccupazione ti pretende che tu abbia almeno tre tre client non puoi essere mono mono non puoi avere una partita IVA mono come si dice lavorare solo per un'entità quindi molti Uber driver devono poi inventarsi anche NCC e fare altre cose del genere per cui c'è un po' di ostruzionismo non puoi solo fare l'uberista però per il resto è tutto ok trovi Uber economici trovi non è una roba di fascia alta come a Milano Uber che è servizio limusine e lusso qui Uber è un modo per risparmiare soldi per muoversi ok allora ah quante belle domande targa svizzera in Italia non lo so non ho idea ok se sei residente in Italia e guidi macchine svizzere in Italia non ne ho idea ragazzi quello io non lo so c'è la metropolitana a Zurigo? no non c'è la metropolitana a Zurigo Zurigo non c'è la metropolitana ma ci sono un meccanismo di tram autobus e ferro e diciamo treni urbani quelli S la S-Ban S-Ban sta per Stadpan cioè delle ferrovie metropolitane ma non c'è non c'è underground non c'è c'è in teoria alcune ferrovie metropolitane passano un po' underground ma sono treni e tutti gli effetti sono dei treni quindi c'è rete di tram andiamo un po' bellissimo public transport in Zurich vediamo una bella mappa pam però questa è Zurigo non è la Svizzera quindi stiamo parlando di Zurigo andiamo un po' riusciamo a zoomarla wow bella 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 mi piace troppo mi piace troppo quelle colorate che vedete qua sono i tram ci sono boh una in realtà ci sono anche i bass quelli azzurrini sono i bass azzurrini sono i bass altri colori sono i tram e mancano le S-Ban non le vedo le S-Ban sono i mezzi pubblici i mezzi pubblici cittadini ecco i quali S queste qua S in linea nera sono i treni ferrovie metropolitane tipo il passante a Milano tipo le ferrovie anche a Roma sono le ferrovie quindi questi neri sono i treni ok ci sono anche delle scif delle barche lungo il lago di Zurigo che si possono prendere con il biglietto dei mezzi pubblici questo è Zurigo Zurigo è zona 110 questo è il cantone Zurigo il cantone Zurigo è diviso in tariffe zone quindi se attraversi più zone paghi di più il biglietto biglietto urbano da una corsa da un'ora in realtà quindi puoi girare per un'ora sui mezzi costa 4 franchi e 40 se hai la carta a metà prezzo la halb tax lo paghi 3,30 cos'è la carta a metà prezzo è un abbonamento annuo che costa 150 170 175 non ricordo 350 e 170 era 120 in Svizzera 350 e 175 franchi ti dà molti sconti si chiama a metà prezzo ma non è proprio a metà prezzo su tutto su tutti i treni e mezzi pubblici in tutta la Svizzera a quel prezzo se fai già due volte Zurico Ginevra in un anno sei rientrato quindi è quasi no brainer chiunque in Svizzera usa i mezzi pubblici si compra la carta a metà prezzo io ce l'ho pago di meno tutti i biglietti di qualsiasi tipo e questa qui come dicevo prima è una sorta di tassa sul turismo perché tu vieni una settimana in Svizzera paghi i biglietti a prezzo pieno non ti conviene pagare 150 franchi per una carta a metà prezzo io che uso tantissimo i mezzi pago 150 una volta l'anno però poi tutti i biglietti ti pago molto di meno con gli urbani non tanto invece di di 4,40 pago 3,30 quindi in realtà è un quarto il risparmio sono biglietti di 24 ore che costano due per un'ora quindi con 8,80 o 6,60 se sei un metà prezzo ci fai 24 ore 24 ore non è fino a mezzanotte ma se lo faccio oggi alle 11 è fino a domani alle 11 24 ore solari solari e ci fai il mondo bellissima la rete di tram copre veramente come la metro di Londra ogni tram interseca ogni altro tram è una goduria e quindi vai da qualunque posto a qualunque altro posto in genere con un solo cambio di mezzi c'è una rete anche di mezzi notturni che è fantastico i tram sono bellissimi sono silenziosi gli autobus incredibilmente non prendono fuoco non prendono fuoco incredibilmente e così via questa è la costa dorata quella dei ricchi questa è la costa dei poveracci e così via dove abito io non ve lo dirò mai mai mezzi pubblici abbonamenti sì la albtax è appunto il meccanismo a metà prezzo il GA è quello dei ricchi i ricchi fanno il GA il GA è il general general abbonament GA SWITZERLAND voi che vi lamentate del mamma quanto costa l'abbonamento ai mezzi pubblici a Roma a Milano il GA il GA per gli adulti quanto costa secondo voi chi indovina costa l'ira di Dio in seconda classe costa 3900 se vuoi l'abbonamento che può prendere qualsiasi mezzo vuoi gratis gratis così abbonamento ai mezzi pubblici tutta la Svizzera un anno in seconda classe se sei un poveraccio 3009 in prima classe se sei uno svizzero normale paghi 6003 poi anche pagarlo mensilmente paghi di più mensilmente sì gli lasci qualche soldo di più mi compro un prima classe che faccio eh che faccio lo mollo sto prima classe con questo qui puoi viaggiare in tutta la Svizzera tutto l'anno è un po' troppo diciamo che non è conveniente a meno che non siete persone che viaggiano spesso nei weekend e prendono prendono molti treni se siete giovani e viaggiate può aver senso o se ve lo paga l'azienda qualche azienda lo paga Google ci dava i primi anni ci dava 4k l'anno per i trasporti che equivalgono lordi a comprarti un GA quindi Google ti dice ecco di 4k extra oltre allo stipendio oltre alle stocks oltre al rimborso assicurazione sanitaria ecco di 4k per i trasporti se vuoi compri il GA se no fai il cazzo che vuoi GA GA i ricchi comprano il GA io no lo Swiss Pass è una sorta di carta su cui metti vari abbonamenti è un meccanismo che ci interessa poco questo è il mondo dei mezzi pubblici vediamo un po' vediamo un po' se ci sono delle domande interessanti a Roma tutti girano in auto lo sappiamo motopattini elettrici piste ciclabili boh bella domanda ci arriviamo ci arriviamo eccoli qua sono in calendario ci arriviamo all'interno di Zurico è il problema che trova il parcheggio assolutamente sì te la fanno odiare è così la filosofia è questa qui tu non devi arrivare in macchina a Zurico è da folli ci arriviamo su pista ciclabili ho fatto da Langstrass ad affoltern con Uber ragazzo indiano 7 euro a testa in 4 28 si ci sta si no no Uber è figo è fighissimo domanda off topic non adesso dai non adesso farò farò a breve una live Q&A domande risposte qualsiasi ok fuori città c'è differenza di prezzo e tempo tra mezzi pubblici e auto che è veramente sensibile sì concordo concordo la rete Zurico e le città connesse con treni da Zurico diretti è fantastica se vuoi andare un po' per montagne se vuoi fare delle gite diciamo che i mezzi pubblici ci metti il doppio del tempo quindi la macchina ha senso per prenderla e girarla col culo verso Zurico e testa che va verso fuori vai a fare una gita nel weekend vai in macchina e conviene se hai famiglia infatti questo è un use case che a me pesa molto non avere la macchina mi limita un po' perché magari adesso è un po' complicato con tre bambine di cui due ancora che non pesano neanche tre chili ma così se uno ha non lo so se vuoi andare a sciare può aver senso andarci con la macchina la macchina ha molto senso per andare fuori per andare fuori andy emis io pagavo 25 franchi di taxi per fare 5 muri da hb a fifa world museum meglio il monopattino elettrico anzi 25 franchi è buono in genere soltanto per aprire la porta 25 franchi allora bella domanda non in linea con dove siamo però questo me lo aggiungo me lo aggiungo qui importazione beni alimentari 300 chf un chilo di carne super alcolici ti rispondo al volo anche se l'ho messo poi me lo ricorderò in una futura live l'affronteremo entrare in svizzera con spesa o con prodotti di svizzera da fuori la formula è questa qua tu fino a 300 franchi a persona che entra dentro non paghi nulla sopra i 300 franchi di valore se li dichiari o se ti fermano e non li dichiarati ti fanno il culo così però tu arrivi in Dogana se hai più di 300 franchi di valore in Dogana devi pagare l'iva svizzera di importazione però se dove li hai comprati puoi farti scalare l'iva italiana ad esempio questo è un grandissimo affare molti amici ne traggono benefici ogni giorno da farsi scaricare l'iva italiana e poi se sotto i 300 franchi neanche paghi quella svizzera ho amici che hanno comprato tre paia di scarpe con tre diverse fatture da 100 franchi 200 franchi iva italiana scaricata in Dogana mettono un timbro e iva svizzera non pagata e ti ritacci il 22% in tasca sopra i 300 franchi va per singola fattura singolo scontrino sopra i 300 franchi devi importarli e pagare il 7.7 di iva svizzera iva 7.7 questo è l'importazione poi ci sono dei limiti ci sono dei limiti ad esempio fino a un chilo di carne a persona non puoi portare più di la carne è veramente considerata l'oro qui se tu importi più di un chilo di carne a persona devi pagare devi dichiararla e pagarci sopra a un sovrapprezzo molto alto tant'è che c'è gente che racconta che nascondeva i prosciutti all'interno di lingotti d'oro metti dei lingotti d'oro fuori e dei prosciutti dentro e quando entri in Dogana fa ehi hai della carne? no no ho soltanto un sacco di lingotti d'oro ah ok puoi entrare la carne un chilo a persona c'è chi si porta alla scuola a bus solo per portare 10 cili io non potrò mai portarmi un bel prosciuttone da 10 kg da tagliare da affettare anche sui super alcolici c'è qualche limite non ricordo forse 6 litri non ricordo forse anche sull'olio non ricordo si trova online le informazioni specifiche su cosa puoi portare e cosa non puoi portare esatto ci sono dei limiti spiegati sul sito della Dogana 5 litri d'olio 1 chilo di carne e poi ci sono i tazzi bene Pachyderm funziona tipo Oyster che carichi soldi cash e scala da sola in realtà no il meccanismo dei mezzi pubblici in Svizzera puoi far varie cose non c'è un top up no hai delle macchinette ogni fermata ti compri il biglietto oppure l'app l'app SBB è fantastica tu puoi fare una cosa del genere faccio vedere al volo se si vede a parte puoi anche fare non si vede fare easy ride vedi quel bottone rosso io posso premere e dire ora inizio la mia journey e lui ti localizza e ti dice in che fermata stai se hai ovviamente accesso ti consenti l'accesso alla localizzazione e quando poi finisci la tua journey dici finito e lui ti calcola il prezzo del biglietto fantastico o c'è anche la touch timetable timetable touch e tu puoi dire ti metti ti metti nei preferiti le due fermate voglio andare da qui a qui e lui ti fa già il biglietto se metti tu hai dieci fermate preferite che ne so Zurigo Milano e tu dici voglio andare da Milano a Zurigo eccolo qui zac Milano a Zurigo e già parte col biglietto fantastico l'app l'app SBB SBB mobile fantastico anche gli annunci attenzione vicino a Rosanna c'è qualche problema c'è la telelingua che vuoi una goduria e se vuoi lo sconto black friday puoi comprare una cosa figa spesso trovi anche biglietti scontati sull'app meraviglioso meraviglioso bene ci sono i cinghiali per i marciapiedi chiedono Tom se viene a trovarmi ci sarà amico cinghiale l'immondizia l'immondizia è vero ah l'avevo già segnata qui vedi dogana importazioni e bene l'avevo già segnata qui spazzatura e raccolta di femmine le vedremo la prossima volta allora bicicletta e mobilità urbana in realtà questo mettiamo uber taxi perché car sharing sta qui con mobility bicicletta Zuligo vediamo se prima c'è qualche altro c'è una certa domanda che diventiamo una certa domanda interessante Signero dice l'unica negativa è la rete notturna che c'è solo due serie in realtà Zuligo la rete notturna c'è sempre che costa 5 franchi in più il biglietto notturno oltre al biglietto base sto immaginando rip che è così debotto senza senso aggiungerei fa l'abbonamento prima classe e passa da frugale ma frugale è un par de palle ragazzi ho già speso più di 7000 franchi sto mese stiamo al 9 del mese frugale è un par de palle mi sto sentendo male spendo un sacco di soldi quasi quasi mi regalo un prima classe che ha così e poi giro in prima classe sull'autobus a casa mia voglio la prima classe sull'autobus pretendo la prima classe sull'autobus ok ok bene grazie a L che ne sai a pacchi vedo che conosci anche gli scaglioni dell'iva ottima passiamo passiamo in bici passiamo di saliamo di livello di qualità no i poveracci girano in macchina Zorico la gente per bene gira con i mezzi pubblici e poi dopo i veri ricchi girano in bicicletta bicicletta Zorico non è esattamente la città migliore al mondo per muoversi in bicicletta ha una rete di piste ciclabili non mi direi che non mi sembra proprio molto ben pensata la la soluzione le soluzioni ciclabili a Zorico Zorico città come ciclabilità urbana intendo dire bicicletta per andare al lavoro è un posto super safe perché le macchine vanno a 30 all'ora la gente rispetta i limiti nessuno mette sotto i ciclisti i ciclisti sono organizzati però non è che c'è un supporto di grandi redi ciclabili va da sé che la gente rispettando i limiti e guidando dignitosamente fermandosi alle strisce essendoci una una civiltà maggiore per strada anche senza molte ciclabili la muoversi in bicicletta è una figata lo stesso quindi io sempre quando lavoravo in google andavo i mesi in cui la temperatura era commestibile andavo sempre a lavoro in bicicletta era fighissimo passavo sul fiume era un capolavoro però ecco ci sono città che hanno delle delle reti ciclabili molto più sviluppate è molto bella la ciclabilità ricreativa cioè c'è il sito oh mamma che bello quando vado qui mi emoziono un sito pubblico un sito pubblico un sito dello stato swiss mobility si chiama che non è da confondere con mobility con mobility car sharing che ci arriveremo mobility.ch ma schweizermobil ah ah è brutto è bruttissimo l'app è molto più figa ma switzerland mobility ce l'ho in inglese ok ha le reti di hiking zoomiamo un po' quanto è brutto sto sito è proprio brutto ma è bello è brutto ma è bello c'è ah winter è nuovo figo hiking in switzerland cycling in switzerland mountain biking tu hai tutta una rete di percorsi ciclabili per biciclette per mountain bike che vanno nel verde hai segnalate tutte le piste ciclabili per mountain bike per andare a fare escursioni è una goduria mostruosa national routes guarda guarda mamma mia ragazzi ah dove cominciamo la via del reno eccola qua tappe 435 tappe 10 stage eccola qua madonna mia perché perché non sto facendo questa roba qua questa è la switzerland mobility anche una sorta di google map puoi zoomare e c'è le piste ciclabili numerate c'è tipo la la 66 che è un capolavoro questa qui che va tutta la costa dorata ah ah e se usi anche metti anche mountain biking trovi vari percorsi hanno una numerazione hanno una numerazione proprio vai prendo la 32 vado la 84 e la rete è nazionale c'è la la numero 1 che tipo fa Zurigo puoi andare da Zurigo a Ginevra se non sbaglio con la 5 la 5 vado da Zurigo a Ginevra è asservita e c'è tipo le stazioni di servizio è una roba che sono troppo vecchio e ho troppa famiglia per godermela quanto meriterebbe però è una roba inspiegabilmente bella e ho visto che c'è anche adesso canoa skate e winter facciamoci e hiking beh se metto hiking andiamo a casa vediamo il resto sennò cresce all'universo se metto hiking hai tutti i percorsi di hiking impazzisci impazzisci penso che powered by open street map andiamo un po' non so non lo so penso che sia open street map 3D? oh mio dio che vuol dire 3D o mi cresce beta version in 3D non mi mostro fammi vedere fammi godere è bello perché quando ti dite cose pubbliche in Svizzera sono sempre fatte meglio ti stupisco non è il sito dell'Inps capito vabbè non voglio non voglio non voglio soffrire troppo perché è qualcosa che non posso fare ad esempio hiking io ho fatto il pragelpass pragelpass weg pragelpass percorso da 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 pragelpass weg eccola qua tre tappe bellissimo l'ho fatto a piedi con dei miei amici tre tappe il numero 29 vabbè 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 chiudiamo un po' i tab veniamo un attimo a voi che vi ho un po' trascurato comunque bicicletta urbana accettabile piacevole perché comunque la gente non va veloce in macchina potrebbe azzurico essere un po' più ciclabile un po' più un po' più ciclabile ufficiale con delle piste ciclabili con sede propria non accade spesso sono linee per terra dipingono di giallo un pezzo di carreggiata e vai però tutte tutte quante indicate con dei cartelli con delle piste ciclabili ufficiali sono low cost però vanno cioè io ho fatto il ciclista a Roma urbano andavo facevo la tipurtina in bicicletta ho rischiato la morte ogni giorno rispetto a quello lì Zurigo è una roba mostruosa e bicicletta extraurbana figata ho visto ho visto chi mi chiedeva se il casco non era obbligatorio se non sbaglio ok allora mi sembra strano per esperienza è contato l'app è tutta che sono venerdì e sabato sera che c'è il trasporto urbano forse dopo il covid forse dopo il covid forse dopo il covid non c'è più sovrapprezzo ah ok non sono aggiornato perché non vivo non prendo più mezzi notturni l'ho preso forse due volte in vita mia prima del covid costava 5 franchi di sovrapprezzo quindi per prendere un treno un autobus la sera dovevi pagare 4,40 o 3,30 di biglietto più 5 franchi era un costo mostruoso e adesso a quanto pare secondo Signeno a Zurigo il di notte c'è solo il venerdì e sabato sera e non c'è il sovrapprezzo beh è una figata è una figata comunque fino a mezzanotte e mezza quasi l'una girano i servizi normali AL dice le piste ciclabili a volte mi terrorizzano a Zurigo a volte in mezzo a due corsi auto prima di un semaforo sì quando devi girare a sinistra ma io vengo da Roma cioè per me questo qui è paradiso comunque le macchine vanno piano però sì per chi ha visto questo e l'Olanda magari questo non è l'Olanda potrebbero potrebbe essere migliore la ciclabilità urbana non mi lamento per me è ancora da 0 a 10 gli do un 7 e mezzo Roma 2 bisogna mettersi il caschetto in bicicletta in Norvegia non è obbligatorio non è obbligatorio come qui sulla Tuscolana c'è la piste ciclabili ma andare in giro con la Graziella è considerato sport estremo l'ho fatta le piste ciclabili mamma mia io si ricordo non so quella della Palmiro Togliatti finiva proprio dalle buttate finiva dal matatoio finivi proprio poi tornava indietro petizione di Twitch per vedere rip streamare in live mentre si spara tutto il Grand Tour a Switzerland che figata ho fatto troppi figli non le potrò più fare queste cose sì è vero il sito è sempre fatto gli anni 90 però è fighissimo la mappa è molto figa come si esporta cose in UE ogni stato ha le regole quando si è servita dalla Svizzera non lo so non ne ho idea non ho mai dovuto esportare niente dalla Svizzera verso la UE l'oreleva dice mi stai vendendo bene la Svizzera e come posso fare diversamente la Svizzera è una figata ragazzi cioè fai difficoltà a trovargli dei difetti è che costosa è costoso se vuoi andare in early retirement che era un po' quello su cui bloggavo la Svizzera è costosa e ti fanno è tutto costoso non si scappa se guadagni bene però qui è se guadagni bene e se ti piace vivere ti piace il lavoro che fai se non sogni di mollare tutto e darti all'agricoltura qua questo è il posto migliore al mondo allora AL dice se ti eccitano le mappe ah ma AL sei tu sei AL ci vediamo lunedì quando è ci vediamo presto con te sei AL sei tu dammi un feedback sei tu sei AL ci vediamo quando ci vediamo ci vediamo in calendario ci vediamo fra poco se ti eccitano le mappe allora apri la mappa interattiva Svizzera dove sono segnati anche i punti dove hanno fatto gli incidenti in bici ah che goduria che goduria dove dimmi tutto dove sta anche in 3D è quella lì penso forse ci sono passato prima si si ci vediamo se trovo a parcheggio ok grande au a Roma in che zona stavo mi si chiede è una zonaccia una zonaccia non l'ho ancora non l'ho mai detto pubblicamente ma una zonaccia dico spesso che stavo vicino a Zero Calcare Zero Calcare stava al carcere di Re Bibbia e io stavo da dove venivano i carcerati di Re Bibbia cioè io Zero Calcare abitava credo non so se abita ancora lì abita nella località turistica preferita da quelli che abitavano nel mio quartiere Swiss Topo Swiss Topo attenzione Swiss Topo oh mio dio non lo conosco non lo conosco cos'è cos'è ha un sito pubblico che bello che bello i siti della Schweiz Confederazione Elvetica quando leggo quando vedo Confederazione Elvetica qui che ci faccio online maps a parte ecco tutti i siti svizzeri che hanno questa intestazione parti dal sito admin.ch hanno dei dati hanno a distribuzione scaricabili in CSV o Excel o whatever tutti i dati statistici che volete una roba una goduria goduria poi hai il KML oh la la oh la la oh la la questa non la conoscevo me la segno per il futuro fighissimo ok dai finiamo la parte trasporti ammazza che tristezza abbiamo solo fatto assicurazione trasporti prossima live sulla Svizzera costo della vita investimenti mamma mia faremo diverse live sulla Svizzera mobilità urbana ah bicicletta scudere elettrici qui metteremo anche bike sharing ok mobilità urbana mobilità urbana prima di andare avanti rispondo a un paio di domande al volo quando farò una maratona rip marathon in real life mentre faccio una vera maratona devo tornare a correre sono un po' fermo da un mese sono un po' fermo ho ripreso su avevo perso 8 kg ho ripreso tutti quanti credo è lo stress le figlie è un casino io andavo a scaricare il mantantoio alle 3 quando su quella via ero in circo eeeh chi non ha fatto il puttantur a Roma negli anni 90 quanta benzina nei motorini dal mio quartiere poi si passava le bibbia a salutare gli amici carcerati si è costosa ma ti paga più di quello che costa mi si chiara se non tornerei mai a Roma non penso penso che sia proprio no lo considererei un fallimento galattico a meno che non me lo pongo come missione tornare a Roma per cambiare per contribuire per combattere migliorarla ma tornare a Roma per viverci manco morto manco morto l'Italia si e ripeto spesso se tornassi in Italia tornerei in zone Romagna credo Emilia Romagna Romagna Emilia Romagna che è un po' un mix tra Roma e Milano servizi ancora dignitosi oppure Sicilia oppure in zona Ragusa-Siragusa che ho amici da quelle parti che me la vendono sempre come una bella zona e Roma no non ci tornerei manco morto From Torbella to Zurich non vedo di farlo anch'io non sono di Torbella Monaca peggio c'è di peggio? si ok finiamo sulla mobilità urbana per farvi innamorare scooter elettrici ovunque è pieno ma questo penso ormai in tutta anche Italia scooter elettrici con le app lo sblocchi fai un pezzo li trovi abbandonati ovunque molto figo bike sharing c'è c'è anche la e-bike sharing c'è anche e-bike sharing c'è un paio di bike sharing pubblici ad esempio quello più famoso di e-bike sharing pubblico è quello della EWZ che è la electric verkstat però costa l'ira di dio il bike sharing costa un po' troppo a mio avviso hanno tariffe un po' alte non mi piace non l'ho mai fatto però esiste esiste la noleggio gratuito di bici giornaliero durante i mesi estivi scusate che sento urlare dai che devo chiudere che fra un po' è il mio turno al cambio pannolini esiste il bike sharing gratuito velo Zurich velo Zurich bike sharing gratis cost ferlay in Zurich Zurich queste qua verdi questi cassettoni verdi ritrovati in giro per la città nei mesi primaverili estivi quindi 5-6 mesi l'anno e noleggio gratuito gli lasci 20 franchi di deposito ma te li riprendi quando gliela riporti quindi puoi prendere una bici gratis a Zurich tutto il giorno e riportarla nel punto dove l'hai presa se te la porti overnight mi sembra che paghi 10 franchi a notte quindi se puoi tenerla un weekend da sabato mattina a domenica sera paghi 10 franchi o se no la riporti il sabato sera e poi la riprendi domenica mattina e riparti domenica però c'è un modo per girare in bicicletta di Sanzurico fantastico mai visto un motorino oggettivamente si io non l'ho mai visto ma in Italia esistono ancora i motorini in Italia qui non l'ho mai visto un motorino non so esistono ancora e per ultimo menziono Mobility Mobility Mobility.ch è il car sharing è il car sharing pubblico consociato credo con SBB con le ferrovie e hai stazioni veicoli devi andare a prendere una macchina di portarla nello stesso posto devi prenotarla in anticipo car sharing tradizio classico non economicissimo però spesso utile per il transport di andare da Ikea ti pigli sto macchinone paghi tot all'ora più tot al chilometro quindi non è non è il massimo per fare che ne so per star molto tempo fermo tu prendi la macchina per un posto stai 10 ore fermo riprendi la macchina hai pagato la tariffa oraria che non è il massimo è ottimo per piccoli spostamenti per commissioni devi andare da Ikea devi andare una serie a trovare degli amici mobility macchina poi da riporti hai pagato 30 40 50 franchi quindi è un noleggio breve periodo noi lo usiamo molto lo usiamo ci piace ho la carta mobility e così via car rentals non ne ho idea car rentals non ne ho idea se ti serve per prendere una macchina da con i car rentals tradizionali so che costo so che costa sugli 80 90 franchi al giorno mi pare non trovi cose molto discounted quindi così via aeroporti sono giocrafia aeroporti c'è Zurigo c'è Basilea qui vicino che altro c'è Basilea e l'aeroporto internazionale Francia Germania Svizzera Zurigo ci vola qualche low cost ci vola Ryanair Easyjet molto più a Basilea Basilea è l'aeroporto dei poveri Zurigo è l'aeroporto dei ricchi non molto altro da aggiungere muoverti da Zurigo costa tantissimo tant'è che spesso si può andare in America adesso non so neanche se si vola ancora ma Zurigo San Francisco costava non so 2005 facevi Milano San Francisco con Scalo a Zurigo costava 1000 molta gente in Google andava in macchina a Milano e poi faceva Milano San Francisco passando per Zurigo costava molto di meno che fare solo Zurigo San Francisco e trovavi anche i first class Milano San Francisco con Scalo a Zurigo che costavano un terzo dei first class San Francisco Zurigo che è ridicolo una mela costa 10 due mele costano 5 non l'una 5 in tutto quindi volare da Zurigo è sempre una rottura volare da Zurigo durante le Schulferien Schulferien ferie scolastiche ecco se per caso vi trovate in Svizzera dover prendere dei mezzi pubblici per uscire dalla Svizzera nei periodi di ferie scolastiche che sono 13 settimane l'anno e che vanno 5 d'estate più 2 in primavera 2 in autunno e 2 in inverno mi pare 6, 5, 11 e forse altre 2 non so dove a Natale lì prendere aerei costa triplo quindi se vi trovate tipo ma perché questo venerdì un aereo Zurigo-Roma costa 500 franchi è perché ho le ferie scolastiche tutti quanti volano quelle settimane che ho le ferie scolastiche parleremo di scuola più in là ok credo di avervi asciugato prosciugato e così via in Sicilia potrei comprare mezza regione ma morire di infarto per come poco funziona tutto essendo abito da ora è ovvio che se uno si trasferisse in Sicilia dovrebbe mettere in conto anche dei costi di compensazione e inefficienza no? però la zona vicino Catania dovrebbe poi c'è una bella università c'è l'aeroporto potrebbe un po' funzionare dai mafia motorini a Roma ancora Roma è capitato dello scooter ancora esistono gli scooter a Roma non lo so ormai è un anno e mezzo che non scendo a Roma a Roma Nord più mini auto per 14 anni fighetti che scooter qui a Zurico non se ne vedono mai visto motorino anche le mini auto mai viste macchine vedi solo cose top non vedi non vedi mai una macchina imperfetta non vedi mai una roba tipo le pesce andate a Roma la macchina col bozzo so che la revisione è una roba seria qui ogni due anni fai la revisione e ti vanno a controllare le televitarelle qualcosa fa rumore ogni revisione è impeccabile spesso le macchine le buttano perché non passano la revisione in Italia ma camperebbero ancora altri dieci anni bene ragazzi direi che per oggi è tutto pensavo credevo di far di più di due capitoli e basta pensavo di arrivare a parlare di microscope denner galaxy su zalando media mark spazzatura ristoranti delivery food non so a quanti interessano queste cose qua investimenti aprire azienda servizi per famiglia scuola cibo tanta roba tanta roba bene ragazzi vi saluto buonanotte fine episodio 2 su 47 esatto diciamo che quando non so che fare se voglio venire online so che contenuti fare vi saluto è stato un piacere ciao ragazzi grazie